E allora amici di YouTube, benvenuti o bentornati qua sul canale di Burki Termina 0-0 l'anticipo di questa undicesima giornata di Serie B Bari-Ternana, ma è 1-0-0, bugiardissimo Prima di partire con il video vi chiedo tantissimi like Iscrivetevi al canale se vi piace il calcio, se vi piace la Serie B Perché qui sul canale di Burki la Serie B è nostrana Io nel pronostico vi avevo detto, o pensavo, a partita che Potesse essere sfumeggiante, ritmi alti, lo è stato Avevo pronosticato da giocare in singola, segno gol Come idea, come ideologia c'era poi il calcio Se le partite si devono giocare il calcio è strano Nel senso, da tanti punti di vista è bello ma anche strano tante volte E poi le partite possono prendere anche pieghe diverse E' strano il calcio perché il Bari ha dominato in lungo e in largo la partita Se questa partita qui finiva 2-0 Il Bari non avrebbe rubato niente Ma ricordato stasera, boh, in certi momenti mi sembrava di vedere A tratti mi sembrava di vedere giocare al Napoli il Bari Scambi stretti Recupero alto, intensità, velocità, drippling 1-2, triangoli, mi ha garbato tanto la squadra dei Mignani Mi ha garbato tanto Io stasera, veramente, se fossi un tifoso del Bari sarei molto 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 contento Per la prestazione, per l'atteggiamento La squadra veniva da 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia E veramente non ha raccolto quello che meritava Se fossi un tifoso della Ternana sarei lo stesso modo contento Perché la mia squadra ha retto per 95 minuti Pur essendo in costante assedio, in costante difficoltà Da un punto di vista anche di ritmo sulla squadra dei Mignani Poi alla fine ha rischiato anche di vincerla Per dirvi quanto è strano il calcio con il tiro di Donna Roma Che è stato bloccato dal portiere ragazzi del Bari Detto questo, la Ternana è anche lecito un calo Visto anche comunque il periodo dispendioso dal punto di vista fisico e mentale Però la squadra comunque anche oggi ha retto bene È andata a Bari, è andata fuori casa Ha fatto una partita di sacrificio, ha fatto una partita di attenzione Ha fatto una partita anche di limitazione dalla squadra avversaria È stato bravo Lucarelli a prepararla perché io penso se l'aspettavo comunque di poter andare in sofferenza Predominio territoriale netto da parte del Bari Stasera se probabilmente lì davanti c'era insieme a un Cheddira, un Antenucci Io penso la partita sarebbe stata vinta dagli uomini di Mignani Perché? Perché se l'altro attaccante che non ricordo il nome Il Scaledler che io non conoscevo Se da una parte, da un punto di vista di riempimento di aria Ti dà delle garanzie in più, Antenucci è quel classico giocatore complementare perfetto Perché Dira in determinate partite per come gioca il Bari Perché comunque se poi vai a fare un determinato pressing alto Recupero palla e verticalizzazione andando a cercare la porta È quel giocatore perfetto In più se invece devi ripartire magari con una costruzione giocata Con una costruzione mirata E lì davanti c'è giocatori come Botta, come Cheddira e come Antenucci Sai benissimo che te comunque con una triangolazione Puoi andare veramente dentro e arriva a tu per tu col portiere Tra l'altro sono tre giocatori che possono interscambiarsi tutti e tre i ruoli offensivi E queste soluzioni da un punto di vista di campo Da un punto di vista di serie B Da un punto di vista proprio di ruotazioni Anche durante l'arco della partita Diciamo in pianta stabile Anche se giocano i titolari Possono andare ognuno a ricoprire il ruolo dell'altro È normale che Botta nasce più trequartista Un giocatore che comunque ti fa l'assist Ti fa la giocata Viene incontro Viene a raccordare il gioco E poi ti fa l'ultimo passaggio Però è anche vero che questo discorso Chi lo sanno fa anche che Dira è anche Antenucci Se da un punto di vista poi di caratteristiche Si va ad analizzare la qualità Va anche detto che queste sono le due squadre Che secondo me Da un punto di vista personale Sono le due squadre che più mi hanno impressionato Per un discorso di gioco Per un discorso di ritmo Per un discorso di andare poi A preparare la partita Perché poi la Ternana è una squadra che Comunque non ti fa giocare bene È una squadra rognosa la Ternana E è brava a fare anche il suo Perché poi da un punto di vista anche di palleggio Di uscita È una squadra validissima assolutamente E c'ha soluzioni C'ha soluzioni di qualità Perché giocatori come Palumbo Giocatori come Partepilo Anche giocatori come Falletti Sono giocatori che hanno tanta tanta qualità E lì davanti ragazzi Ha delle soluzioni importantissime Perché poi tre punte Del calibro di Favilli Pettinari E Donna Roma Insomma bisogna Vedere anche Veramente la squadra Ma anche dietro Ma anche dietro Perché se poi mi risalta all'occhio Giocatori come Mantovani Come Sorensen Come quel terzino destro Che ora non ricordo il nome Di Abate Di Akite Ora non mi ricordo come si chiama Insomma Sono giocatori sicuramente Forti 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 Poi Voglio dire Il Bari È più completo Come squadra secondo me Perché se poi si va a analizzare Un discorso di singoli Secondo me il Bari È più completo Perché poi Ti risalta anche un giocatore Come Folorunzo Che è una mezzala Fortissima per la Serie B Dietro anche il Bari Insomma è una squadra Ben costruita Mi piace Due parole sull'arbitro L'arbitraggio non mi è piaciuto Soprattutto nel primo tempo Una metodologia Un'interpretazione Arbitrale Non per me idonea Soprattutto nei primi 45 minuti Ho visto veramente Un Ricci In certo punto Fa un entrataccio Su parte Pilo Non venendo sanzionato Per me è molto grave Il rigore non fischiato Al Bari Per me quello era Un rigore netto Sempre su Ricci E altre tante interpretazioni Anche con delle uscite Magari dal basso Che potevano andare a creare Superioreità numerica Non sanzionate Va bene Di lasciare il gioco Di lasciare andare Ma se poi Il fallo è netto Dei fischiare E secondo me Se spezzi il gioco Anche nella zona di centronampo Il cartellino dovrebbe essere Lecito Ecco questa è la critica Che faccio all'arbitro Detto questo Partita Che veramente Mi sono molto molto divertito Domani Seguiremo Sicuramente Le altre partite Le altre giornate Seguiranno Altre tante analisi Seguiranno sempre Tutti i contenuti Che porto Quasi quotidianamente Settimanalmente Sicuramente Qua sul canale di Burki Ragazzi vi piace soltanto Un like Iscrivetevi al canale Condividetelo Con tutti i tifosi del Bari Con tutti i tifosi della Terrenana Che conoscete Ma anche con gli appassionati Di calcio In generale E sono curioso Veramente di sapere Le vostre opinioni Se siete d'accordo con me O meno Su quanto riguarda Questa partita Sulla lettura che ho fatto E ditemi anche Quello che ne pensate Perché comunque Sono molto molto curioso Come dico sempre Shabbana a tutti Bella 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 partita